Quelle che state vedendo sono le immagini girate da uno delle centinaia di telefoni cellulari che, da quando è stata riaccesa, raddoppiando quest'anno le luminarie, hanno già immortalato Villa Picco Bellazzi, incastonata all'angolo tra le vie Bramante e Roma a Bustarsizio e illuminata da 300.000 lucine. Un richiamo irresistibile per grandi e piccini, festeggiato persino dal governatore Attilio Fontana e l'europarlamentare Isabella Tovaglieri, oltre al sindaco e la vice Emanuele Antonelli e Emanuela Maffioli. Ma anche un'iniziativa capace di catalizzare l'attenzione dei social, dove si moltiplicano immagini e commenti e soprattutto i grazie a chi regala ai passanti un angolo da fiabe in centro città.